Sono stati individuati dai tecnici del comune sette interventi che si possono effettuare. Vediamo quali sono con l'aiuto delle planimetrie che ci consentono di vedere in blu il progetto originale ed in giallo le modifiche proposte ai cittadini. Partiamo da nord, quindi dalla strada che va a Carignano e qui abbiamo previsto un piccolo spostamento della rotatoria in maniera tale da rendere più agevole la vita a questa famiglia e poi abbiamo alleggerito questa curva che sale verso la zona di Belgatto. Questa è una modifica che prevede anche il restringimento della rotatoria. Il secondo intervento è Rosciano, questa è l'autostrada, questa è la sottovia che collega la località Forcolo, la zona Codma con Sant'Orso. Questa rotatoria verrà leggermente ristretta e questo accesso sarà fatto in maniera differente in modo da risparmiare terreno. Questa è la strada di Cerbara, il proseguio di via Soncino, quindi Sant'Orso, queste sono le ultime case di Sant'Orso e questa rotatoria verrà leggermente spostata e ristretta in maniera tale da poter allontanare il più possibile e non intaccare la recinzione di questa casa. Qui il blu è il progetto originario, il giallo è quello che verrà realizzato? Sì, il blu è l'originario, il giallo è la modifica che noi chiederemo. Questa è un'altra modifica abbastanza importante, qui ovviamente la scala fa un po' la differenza, per questo è un tratto di strada molto lungo, che collega via Mattei, che è questa, quindi la strada dell'aeroporto dove c'è la sede dell'Aset, con questo rotatore che si trova proprio a ridosso dell'autostrada, quindi qui cambiamo leggermente il tracciato in questa parte di territorio, mentre qui lo cambiamo in maniera un po' più drastica, cercando di non passare in mezzo a questo campo. Qui siamo invece questa via Papiria, questa via Mattei, che adesso si interseca in una sorta di mezza, diciamo, di innesto a T, diciamo, in curva, e era prevista una rotatoria più verso mare, tra l'altro in mezzo prevedeva anche, come dire, di occupare l'area di un pozzo. Abbiamo cercato di stare più vicino al canale, cercando un po' di diminuire la rotatoria e credo che anche per evitare interferenze con, diciamo, il pozzo e con l'Enel. Questo è l'intervento, diciamo, più discusso, più, come dire, che ci ha impegnato, tra virgolette, perché mentre negli altri interventi, tutto sommato, si modifica leggermente, diciamo, le aree espropriate, anzi si restringono in alcuni casi, quindi porta un vantaggio alla popolazione, ai residenti. Qui invece si cambia proprio la filosofia. Questa è la strada che sale verso le camminate, dove qui c'è l'impianto di compressione di SNAM rete gas, quindi che passa sotto poi l'autostrada. Questa rotatoria viene rimpicciolita e spostata un po' più verso monte, e di conseguenza cambia anche il tracciato per permettere di arrivare con una rotatoria subito, diciamo, nella fase terminale del ponte, della strada, che va verso, che dalla Tombaccia va verso San Costanzo, verso l'entroterra. Quindi sarà un rilevato alto due metri e mezzo circa, con una rotatoria comunque importante di 42 metri, che quindi andrà, come dire, a liberare un po' una situazione qua, diciamo, verso la parte terminale di Tombaccia, via dalla Tombaccia è questa, e comunque vorremmo garantire un accesso su strada di mezzo.